Ieri l'abbraccio di Papa Francesco ai suoi vescovi nell'aula del Sinodo in Vaticano. E noi oggi da quell'aula abbiamo tirato fuori Monsignor Zuppi, l'Arcivescovo di Bologna. Monsignor Zuppi, grazie di essere venuto stamattina. Poi la restituiamo ai lavori dell'Assemblea. Eccellenza, innanzitutto come sta? Tutto a posto? Bene, ho preso il caffè. Il caffè d'orientamento fondamentale. Monsignor Zuppi... Era la promessa che venivo presto e va con il caffè. Perché bisogna accompagnare la mattinata, perché altrimenti vi aspettano anche giornate intense di confronto, di scambi di informazioni, ma anche di progetti, perché no? Monsignor Zuppi, ieri quando Papa Francesco ha chiesto a voi tutti di essere più sinodali e vicini ai preti, la sofficinanza ai preti la si comprende. La sinodalità, noi come ce la dobbiamo immaginare tra vescovi? Di per sé sarebbe una cosa normale, perché di per sé uno non si deve pensare mai da solo. Questo è vero per tutti, per i vescovi, per i preti, per qualunque, per chiunque. Camminiamo insieme, è importante, è bello, soprattutto non è un dovere, sarebbe preoccupante il contrario. La sinodalità è questo cammino insieme. Purtroppo qualche volta pensiamo, andiamo in ordine sparso, ecco diciamo così. Chiediamo poco aiuto, ci facciamo poco aiutare e la sinodalità è soprattutto, anzitutto, un atteggiamento di comunione. La consapevolezza di essere insieme ad altri, di vivere insieme ad altri, a volte, questo è un riferimento di Papa Francesco, il vescovo deve essere avanti, a volte in mezzo, alcune volte dietro. Paternità e fraternità insieme, questo è da San Giovanni XXIII, nel famoso discorso che rivolse quello della luna, per intenderci, disse, ma io chi sono? Io sono un poveretto, disse, no? Io sono una povera persona che la grazia di Dio aveva reso padre. Paternità e fraternità insieme, questa è la sinodalità. Monsignor Zuppi, ma come si vive, come si diventa da preti a vescovo? Voglio dire, noi a voi, a voi, no, è una domanda interessante, è un lavoro in corso. Sta cercando di capirlo, ma è una stupidaggine, è una battuta la mia. Lei è da 27 ottobre 2015, catapultato da Roma, dall'esperienza di Roma, da Sant'Egido, dove nasce anche la sua vocazione, a una città bella e comunque impegnativa come Bologna. Voglio dire, a voi chi vi aiuta a fare i vescovi? Sempre e soltanto la grazia di Dio, e solo per grazia, quando rischiamo di pensare il contrario, cioè per meriti o per altro, anche questo vale per tutti, vale per i vescovi, vale per i mariti, vale per le moglie, vale per i preti, che davvero tutto è grazia. Quando ci ricordiamo questo, siamo davvero noi stessi. Il tutto è grazia non significa che non è mio, qualche volta invece abbiamo tempo un po' a fermare quello che io sono, ma appunto la grazia mi fa essere pienamente me stesso, ma appunto perché amato e insieme agli altri. Quindi quello che ci aiuta è solo la grazia. La grazia, poi ci aiuta tantissimo la preghiera, molto. Quando diventai vescovo, il Catania Vellini, io gli disse, ma a me mancherà il contatto diretto, perché indubbiamente il Catania Vellini mi disse, guarda, dovrai amare le persone nella preghiera. E poi la comunione, cioè la fraternità, l'essere insieme, il pensarsi insieme, questo sicuramente, questo aiuta tantissimo, cioè relativizzarsi con gli altri. Noi siamo contro il relativismo, non c'è dubbio. Assolutamente. Però dobbiamo pensarci in relazione, il nostro vero relativismo è la fraternità, la comunione. Zuppi, una vita passata, conosciuto al tempi del liceo, la comunità di Sant'Egidio. Questo giovane studente era un po' più grande di lei, Riccardi. Sì, cinque anni prima. Io entravo a scuola e lui faceva l'ultimo anno. E lui finiva al liceo. Era l'ultimo anno. Che la infiamma con i discorsi sui poveri, sul guardare l'altro. Che cosa avviene da quell'esperienza che lei si porta ancora presso? Sant'Egidio cosa è stato per Matteo Zuppi? Beh, Sant'Egidio è stato l'incontro con il Vangelo. Io vengo da una famiglia con due genitori santi, cioè che volevano bene ai figli, volevano bene al Signore, pregavano. Certi rosari l'estate erano un po' indigesti, onestamente. Quelli là interminabili? No, soprattutto era preferibile l'estate andare a giocare. Andavano bene. Ho imparato tante cose. Credo che debbo tanto alla loro educazione. L'incontro con il Signore è stato con Sant'Egidio. L'incontro personale, direi. Quello che è indispensabile, altrimenti quello di ordinanza non basta. Partiamo da questo, perché anche se si trasmette e bisogna lasciarla ai propri figli, lo facciamo troppo poco. Casalmente facciamo qualche sconto sui rosari. Qualcuno in meno. Però a pregare dobbiamo insegnarglielo. Adesso dobbiamo stare attenti con il rosario, attenzione. No, no, attenzione. Perché qua ormai lo prendono, insomma, lo si prende così come... Speriamo che si reciti, oltre che... Oltre che a giurarci sopra. Questa è una cosa molto interessante. Ma signor Giucci, lei ha già parlato un paio di volte di incontri. L'incontro con questi poveri, l'incontro anche con fratelli. Che poi sono diventati i suoi amici. E vogliamo fare una sorpresa. Noi abbiamo un certo... Monsignor Paglia. Che ha qualcosa da dirle? Lo vogliamo guardare insieme? Valeria Castrucci è andato a pizzicarlo. Andiamo. Con Don Matteo ci siamo conosciuti quando era Matteo. Nella comunità di Sant'Egidio. Un giovane brillante del liceo Virgilio. Quando allora si cantava Zuppi tu, Zuppi tu invece di... E lui poi ha scelto di diventare sacerdote. E quindi sempre all'interno della vita della comunità. Divenuto sacerdote, diventato vice parroco ovviamente a Santa Maria Trastevere. Poi parroco e Don Matteo era il beniamino del quartiere. Ancora oggi, se uno traversa le strade o la piazza di Santa Maria, è difficile continuare a camminare con lui. Bisogna fermarsi in ogni momento. Ricordo molto bello la fila dei poveri che si accalcavano davanti alla Basilica quando lui diventò parroco e io poi andai a Terni. che aspettavano da lui magari un euro, un abbraccio, una parola, una risata. Ecco, Don Matteo è l'esempio di un prete di strada. Diciamo così. E quando io incontravo la prima volta Papa Francesco, una delle prime cose che mi disse, poiché conoscevo Matteo che andava a volte in Argentina, si mi raccomando, digli di rimanere di strada. E oggi sta nelle strade di Bologna e io mi auguro delle strade di tanti cuori che hanno bisogno di affetto. Monsignor Zucchi, che significa? E' l'affetto, gli fa dire queste cose. Ma siete la storia di quella comunità, lei è Monsignor Paglia, quindi sappiamo che sono parole assolutamente credibili. Lo tradisce l'amicizia. No, no, sono estremamente credibili. Monsignor Zucchi, che significa? Portarsi nel cuore addosso ai poveri, stare in mezzo a loro. Questi poveri da Santa Maria in Trastevere che lei si è portato nel cuore anche a Bologna, perché fanno la differenza anche nella vita di un vescovo? In parte che qualcuno anche proprio da Roma è venuto a Bologna. E' venuto a Roma. Ma nel senso stretto. Me lo sono alla certezza. Poi purtroppo è morto. Io abito alla casa del clero e sono dieci minuti a pieni. Perché io preferivo stare con i preti, di più quell'archivio vivente che sono i preti anziani, i preti, i preti anziani ancora di più. Stavo andando a piedi, vedo uno che dorme, allora sotto i portici. Quindi mi fermo perché, per vedere, eccetera. E quello mi fa, a Roma a te. Era appunto, era uno poveretto Lorenzo, e poi purtroppo dopo alcuni mesi è morto. I poveri sono la compagnia di tutti, per tutti, anche qui. Io credo che in realtà quello che ci è chiesto è una cosa bellissima, cioè di essere vicino agli altri. I poveri sono quelli che ci hanno più bisogno, sono Matteo 25. E che cosa significa stare vicino? Anzi, soprattutto appunto, avvicinarsi. Non c'è niente a fare, non si manda un whatsapp, diciamo così, io lo voglio bene, però a distanza, diciamo. La parola buon samaritano bisogna proprio chinarsi, vedersi, sentire, capire. Ecco. Non se ne può fare a meno, ecco. il problema è che qualche volta pensiamo che dei poveri ci sono quelli che se ne occupano, diciamo così, che è la Caritas, figuriamoci, sono bravissimi, gli do pure qualche cosina, ecco. Perché? Però alla fine diventa un modo con cui, siccome la domanda non sarà, dice, ma tu che hai fatto? Io l'ho mandato alla Caritas, no, no, ma tu gli hai dato da mangiare, o gli hai dato da bere, l'hai visitato, eccetera. E questo riguarda tutti, dai vescovi, forse i vescovi ancora di più, ma no, tutti quanti in realtà, non c'è niente da fare. Quindi, credo che l'invito alla fraternità con i poveri, che non è problema di assistenza, non è problema di io faccio qualche cosina per loro, perché sono i suoi fratelli più piccoli e sono quindi anche i fratelli più piccoli che vengono affidati a noi. In genere, io ero il quinto di sei, però quando eravamo io col più piccolo, ovviamente ci pensi tu, vero? Come dire, la responsabilità tua. Ecco, questo affidamento di nostro signore, dei nostri fratelli più piccoli, lo sentiamo molto poco, diciamo così, e forse dobbiamo farlo di più nostro e scopriamo anche di più credo la gioia di averci un fratello più piccolo. Scopriremo di averci un fratello. Bologna è generosa, Bologna c'ha un cuore buono. Bologna è piena di tante tradizioni di solidarietà, di tante tradizioni nate da sensibilità, da persone, da uomini, da donne, con tanta intelligenza anche. La cosa che mi ha colpito sono per esempio alcune fondazioni che nascono per i sordi, per fare un esempio, un esempio reale, e che oggi sono delle eccellenze nell'aiutare i sordi o i ciechi, per esempio. Cioè, l'amore è sempre intelligente. Potremmo anche dire il contrario, che se uno non ama non è intelligente. È verissimo. Ma l'amore è sempre intelligente. è verissimo. Rende intelligente, aiuta a capire le cose, a migliorare, a non accontentarsi, a restare, ma anche sempre a fare qualche cosa in più. L'amore, c'è Tiersi? Non si accontenta. E lì c'è tanta tradizione, tanta intelligenza di amore. E questo fa la differenza anche nei progetti, negli aiuti, nell'organizzare una carità e non fare una distribuzione così a volte a pioggia che paradossalmente non serve a nulla. di trovare le risposte senza però mai perdere, senza mai diventare organizzazione. Ecco. E qualche volta rischiamo di diventare organizzazione e la carità è vera. Certo che si organizza, perché altrimenti facciamo un momento di entusiasmo, di grande passione, poi di emergenza. Su questo credo che noi siamo straordinari nell'emergenza, ma forse dovremmo anche pensare che poi dopo l'emergenza ci sono ancora tanti cocci da aggiustare e non basta fare un grande gesto. I veri grandi gesti sono quelli quotidiani. E in questo senso a Bologna ho trovato tanta intelligenza di amore e di cultura anche per far nascere dall'assistenza, dalla vicinanza, dall'amore per i poveri far nascere anche una cultura. Quella che mi sembra che un po' manca. Difetti. Esattamente. Monsignor Zuppi, attraverso di lei noi abbiamo scoperto una figura meravigliosa a Bologna, padre Olinto Marella, di cui lei è un innamorato pazzo. Quest'anno sono 50 anni dalla morte. Esatto. E abbiamo scoperto perché siamo andati a vedere con Simona Mulazzani di chi parliamo. Innamoratevi di lui. Guardate. Bologna ha tre realtà molto importanti. La Madonna di San Luca, le torri e padre Marella. Per cui se uno vuole bene a Bologna, ai bolognesi, queste tre cose le deve tenere in considerazione. Padre Marella è stato secondo me proiettato, catapuntato a Bologna per un disegno particolare della Providenza. Una città di grandi passaggi, una città famosa anche per la sua cultura, la sua università. Però mancava forse una cattedra, la cattedra della carità e dell'umiltà che padre Marella ha inventato in maniera ispirata proprio, con un sigillino di tela in un angolo di strada per dare a tutti i passanti una lezione magistrale di carità. E noi vorremmo continuare ad essere un po' la coscienza di Bologna. L'opera Marella è diventata una grande realtà. Per assistere i 200 poveri abbiamo ben una quinecina di strutture perché ogni persona che arriva è una persona particolare. Non c'è nessuno in fotocopio. Sono tutti diversi gli uni dagli altri. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha i suoi problemi, uno ha le sue fragilità e debolezze ma anche i suoi doni, le sue qualità e quindi noi dobbiamo applicare una carità personalizzata in maniera che ciascuno riceva quell'aiuto di cui veramente ha bisogno. cerco con i miei limiti perché non sono padre Marella di continuare a fare un po' quello che faceva lui. Non sono santo come lui, vado però tutte le mattine nel centro storico di Bologna. Mi siedo, tiro fuori il mio cappello, il famoso cappello rovesciato e lì cerco di accogliere le offerte e la gente è generosa e qualcosa da sempre. Infatti padre Marella ha detto una frase che è profetica, vi lascio un sacco di preoccupazioni ma vi lascio il mio cappello e vi assicuro che non rimarrà mai vuoto. Parole profetiche perché a distanza di 50 anni questo cappello ancora funziona. Direi in qualche modo fa miracoli. Ci sono ancora tanti che fanno la loro offerta piccola o grande per cercare di aiutare questa opera che si impegna nella solidarietà quotidiana per aiutare i poveri. Io non so come ringraziare la nostra Simona Mulazzani per aver raccontato questa storia con il signor Zuppi sembra uscita da un libro di favore da un altro mondo. Una storia bellissima veramente di un santo tra l'altro c'è anche in corso il processo di fetificazione un uomo di grandissima cultura lui prete poi fu scomunicato ebbe un provvedimento disciplinare nel tempo della lotta contro il modernismo diciamo il cominciò a insegnare tra l'altro credo che non credo uno dei suoi alunni fu Indro Montanelli che il suo riferimento per le parti religioso era legato molto a padre Marello e poi a Bologna questa intelligente ripresa diciamo della sua vita ecclesiale e l'amore per i poveri dice prima l'orgoglio della ragione e l'umiltà per i poveri perché la chiesa faceva paura quella chiesa di quel tempo Monsignor Zuppi la scomunica per che cosa diciamo per lasciare il modernismo era qualcosa che diciamo la chiesa di quel tempo faceva fatica ad accettare a comprendere lo sviluppo di tante scienze moderne e quindi la reazione rispetto al sospetto che quello significasse snaturare la fede con alcune semplificazioni certamente da una parte dall'altra ma certamente la fatica di tanti fono sospettati di modernismo dall'altro il suo compagno di classe al seminario che era uno che si chiamava Roncalli che anche lui fu un pochino come dire che arrivò a qualche fumo di sospetto e invece poi la storia grazie a Dio è ben altra Monsignor Zuppi qualcuno potrebbe dire grazie Bologna è una città generosa è una città ricca insomma sicuramente non è tra le più povere di questo paese il problema dei pastori italiani che vivono anche delle realtà difficili economicamente e allora la cominciamo ad avere il braccino corto perché dice io ho tanta disponibilità di risorse eccetera prendersi a cuore i poveri stare con loro non è necessariamente una questione di soldi e di risorse nelle case affatto perché cosa passa lei questo è un suo pallino è una storia su cui insiste da quando stava a Roma innanzitutto la valizia dei ricchi è sempre sorprendente cioè proprio che è la nostra la valizia dei ricchi diciamo così siamo avari anche qualche volta del superfluo diciamo quell'espressione molto della nonna di Bergoglio quando diceva il sudario non c'ha le tasche che è anche di buonsenso ma che ci fai no? e qualche volta siamo avari anche del superfluo la solidarietà non è dei ricchi e quell'altro santuomo che era elder camera diceva non c'è nessuno che è tanto povero da non aiutare qualcuno più povero di lui e in realtà la solidarietà è dei poveri è l'attenzione all'altro è quella quella vicinanza che nasce dal vedere uno che posso far poco ma quello che posso lo faccio sono tante storie di amore che non sono dei ricchi ma appunto dei poveri Bologna è una città che ha dei mezzi è una delle città indubbiamente che sta vivendo tra l'altro anche un grande momento nonostante la crisi ma è una di recupero la disoccupazione nella nostra regione è quasi la metà rispetto alla media nazionale c'è indubbiamente una grande nonostante le difficoltà passate e anche quelle attuali però ci vuole ci serve sempre quella padre Gabriele parlava della carità personalizzata vero l'amore non è mai industriale l'amore è sempre molto personalizzato e ci rende persone a noi e a chi lo riceve non può non essere personalizzato in questo senso credo che padre Marella è veramente un testimone che ha ancora tanto da indicare l'amore personalizzato questa ce la sogniamo non è mai industriale ce ne andiamo un minuto in pubblicità un minuto e poi torniamo a raccontare di cose belle che si fanno a casa nel momento in cui i pastori italiani si guardano occhi negli occhi sono alla scuola di Francesco ieri sono stati alla scuola di Francesco ci siamo come dire avanti questa mattina della carezza della presenza di un pastore di una chiesa italiana quella di Bologna Monsignor Matteo Zuppi in un viaggio che ci stiamo raccontando di più del meno Monsignor Zuppi incentrati tutti sul discorso della carità di una chiesa che questa carità non solo la fa ma la vive la vive con mille esperienze diverse allora Monsignor Zuppi la portiamo nella sua Bologna nella nostra Bologna e andiamo a vedere quando parliamo di opere di carità a che cosa pensiamo nella sua città guardate qui ancora con Simone Mulazzani credo che una come dire una comunità cristiana senza rapporto con i poveri non è cristiana completamente la dioce di Bologna è una dioce molto vivace dal punto di vista della solidarietà grazie appunto anche ai fondi ai dividendi della fac che vengono utilizzati unicamente per la carità i progetti sono nati non dico da soli però sapendo che c'è questa possibilità molti hanno fatto riferimento per questo è nata una commissione che deve bagliarli e le richieste sono di vario tipo soprattutto anche come tramite la carità di diocesana per esempio aiutare le carità sparocchiali per le famiglie che hanno bisogno fanno riferimento ai centri di ascolto della carità soprattutto chi non ce la fa pagare l'affitto le bollette o anche all'alimentazione un'altra cosa è anche si è stato creato un tavolo per il lavoro in collaborazione con la città metropolitana di Bologna per aiutare le persone a trovare lavoro in collegamento con le aziende del territorio altri per la disabilità per esempio molti sul non so anche su dati per comunità terapeutiche anche a comunità per carcerati dove finiscono diciamo il fine penna dentro la comunità dove fanno lavoro anche esterno altri per esempio come nel luogo in cui siamo la comunità si chiama Arca della Misericordia queste tre donne che hanno deciso insieme di dedicare la loro vita per persone che avvengono i bisogni più disparati e ad accogliere quelli che non accoglie nessuno loro hanno tre case di cui noi appunto stiamo finanziando una casa qui di fianco dove diventerà un'altra casa che accoglierà altre 25 persone lo stile qual è? quello di aiutare chi ha un progetto che ovviamente è pensato è sostenibile dove noi andiamo anche a monitorarlo cioè ci incontriamo con le persone andiamo a vedere dove il progetto nasce e poi si segue anche il progetto mano a mano che gli steppano avanti per cui questo ha creato un grande movimento ma anche una responsabilità da parte nostra per fare in modo che gli aiuti vengano dati davvero e che siano dei progetti che abbiano una continuità opere che continuano intanto alcuni di quei voti di quelle donne li abbiamo anche visti nel servizio di Simona che io ringrazio tantissimo Simona Mulazzani Monsignor Zuffi sono davvero delle normali grandi donne tre donne che hanno decise di vivere grandi donne normalissime lo dico nel Gaudete e le Exsultate che è un'esultazione importante quanto l'Evangelio Gaudium di Papa Francesco che ci aiuta a capire e a vivere sarebbero i santi alle vite ordinarie proprio quelli che dicono ma quello è santo no no persone come noi sì perché poi se sono i santi mi dici quindi vabbè quello è santo io non ho manco lo stinco quindi invece forse donne che decidano ce l'abbiamo tutti di per sé ce l'abbiamo tutti Monsignor Zuffi lo stinco ce l'abbiamo tutti perché facciamo così fatica a fidarci anche dei poveri a fidarci di quella non sono solo valori sulla carta sono esigenze bisogni come solidarietà condivisione perché mai come in questo momento negli ultimi anni noi stiamo recintando le nostre vite e c'è questa chiesa che fa fatica anche a dire che il compito è ben altro la paura la paura è sempre una cattiva consigliera la paura c'è e anche per fortuna perché in alcuni casi è necessaria la paura è anche una spia che ti si accende se uno non ha paura va a sbattere ecco è importante la paura è un grande indicatore però se guardi soltanto un indicatore non vivi più la fiducia qualche analista credo direbbe quando uno non si fida più di se stesso non si sa fidare degli altri e penso che è vero in realtà non ci fidiamo di noi stessi non ci fidiamo di chi ci rappresenta non ci fidiamo delle nostre istituzioni non ci fidiamo che le cose possano andare e non ci fidiamo tanto che abbiamo paura ci conserviamo non facciamo figli non guardiamo al futuro non cerchiamo non costruiamo non piantiamo alberi diciamo così nel senso lato per cui non abbiamo fiducia negli altri credo che funziona anche così che uno quando impara ad avere fiducia negli altri li trova anche in se stesso Monsignor Zuppi la chiesa in questo momento cosa deve fare? deve far sentire la sua voce o la chiesa se ne deve stare buona buona nel suo recinto secondo lei? la risposta è già la data direi anche perché il nostro signore diciamo prende i battipanni e ci fa uscire di casa quindi non è soltanto Papa Francesco il Papa Francesco non ha fatto che ricordarci che siamo mandati non è che il Papa Francesco non ha fatto che dire guardate che il nostro signore non è che state qui vicini non va allontanare andate buoni buoni con me ci manda fino ai confini della terra quindi si raccomanda di essere vicini agli altri eccetera credo che la chiesa oggi ha due grandi ruoli uno quello di con la fiducia e con l'amore vince la paura il contrario della paura fiducia e amore non è il coraggio il contrario della paura è sempre l'amore e l'altro è quello di costruire la comunità il nostro presidente della conferenza episcopale Bassetti direbbe di rammendare perché ci sono tante lacerazioni ci sono tante parole che lacerano tanti toni che lacerano non si può vivere in campagna elettorale permanente non siamo mai finite il tono perché è un tono per tutti questo ovviamente in cui si esasperano i toni si dicono delle cose che poi molte volte non si fanno illudere eccetera ma può essere comprensibile non ho mai fatto una campagna elettorale mi è sempre sembrata in genere così una sorta di conquista eccetera come se le cose non parlassero come se non ci sono i ragionamenti la comprensione quindi la chiesa l'amore fiducia in se stessi e negli altri e poi io credo il rammendare ricostruire la comunità quello che dice il cani a bassetti di ricostruire quello che altrimenti viene lacerato o non si non si pensa insieme non ci si integra l'integrazione non è soltanto con gli stranieri ci sono certi tra virgolette disintegrati che non parlano le tasse che non Monsignor Zuppi lo sa che a Bologna le vogliono bene? lo spero le vogliono bene forse abbiamo capito anche da te questa è la Madonna di San Luca la Madonna di San Luca qualche rosario però fa bene i rosari fanno bene anche ai piccoli sempre giuste dosi sempre quello non troppo tra poco scenderà la Madonna il 25 il Giro d'Italia è cominciato quest'anno con la crono scalata alla Madonna di San Luca che soddisfazione per lei che è un ciclo dica la verità moltissima c'era tantissima gioia tra l'altro è stata una giornata di sole tra tutte giornate invece viene piena di nuvole e di pioggia la protezione di Maria la chiesa è madre aiutiamola però il rosario si se no diventa impopolare il rosario Monsignor Zuppi grazie di cuore buon lavoro per oggi grazie mille grazie a voi pensateci quando sarete insieme tutti i vestiti grazie a voi oggi è una giornata speciale proviamo a ricordare a fare memoria di fatti che hanno segnato profondamente la nostra vita grazie a voi grazie a voi grazie a voi